ok qui abbiamo un gadget molto interessante per iPhone o comunque per tutti i dispositivi Apple che hanno l'ingresso Lightning qui ho un lettore di card, di SD card e di micro SD card da una parte con attacco Lightning e dall'altra abbiamo un USB 3.0 sostanzialmente serve per collegarci un SD card qui ho una banalissima SD card si infila normalmente dentro l'alloggiamento e si può andare a collegare direttamente alla porta Lightning dell'iPhone a questo momento in poi noi potremo andare a sfogliare le foto che sono all'interno dell'SD card direttamente nell'app file nativa dell'iPhone perché comunque questo prodotto è certificato MFI infatti se voi vedete qui è comparso comunque la cartella relativa alla mia SD card adesso per dire se la stacco vedete che scompare se l'attacco ricompare e posso andare dentro qui abbiamo le due cartelle e posso andare a sfogliare le foto che ho fatto tra l'altro visto che scatto sia in JPEG che in RAW abbiamo tutti e due i file cosa secondo me è questa molto positiva qui faccio vedere che comunque eventualmente ho anche comunque i videoclip possiamo andare a sfogliare su tutto quello che abbiamo girato per dire questo l'ho fatto con la macchina fotografica e vedete che comunque il video si vede perfettamente altra cosa molto positiva di questo prodotto è che siccome ho il file RAW io posso andare su Lightroom per dispositivi mobili ed andare a aggiungere dall'app file il mio file RAW adesso ci vuole un attimo per elaborarlo però vedete che ha importato il file il che significa che io adesso potrò andare a modificarlo tenendo comunque tutti i dati del file quindi questa secondo me è un'ottima cosa ovviamente il trasferimento funziona anche al contrario perché io da qui posso andare a trasferire i dati che ho nella mia galleria e per dire invio una foto su file io posso andare a scegliere la cartella presente sulla SD card e semplicemente salvarla se torno qui, vado sulla mia cartella vedete che ha salvato la foto a questo punto posso banalmente andare a staccare l'accessorio e con questo collegato posso andare ad attaccarlo a un qualsiasi PC e andare a scaricare tutte le mie foto che ho preventivamente scaricato dall'iPhone ovviamente funziona con qualsiasi tipo di SD card più è performante l'SD card meglio è e qui c'è l'alloggiamento per tutti e due il cavo è in nylon intrecciato è fatto molto bene quindi secondo me è un ottimo prodotto non è velocissimo il trasferimento dei dati ovviamente dipende dal tipo di SD card che si inserisce ma tutto sommato fa il suo lavoro e secondo me è un ottimo prodotto è un ottimo prodotto